Questo è un governo, Renzi, il PD, il Partito Democratico, che vuole consegnare chiavi in mano le vite degli italiani nelle grinfie, dei banchieri e delle assicuratori. L'avete fatto vedere anche voi! Trattati inventati per fare guadagni malati è un grande bordello, e chi ci guadagna sono sempre gli stessi, le banche e le lobby, i governi centrali, ma sono in potere a loro connessi, padroni del mondo, a francoforte che prodano come se fossero mari, non sputano fuoco, non hanno le ali, ma sono vicini ad un tipo di draghi. Questi banchieri ci fanno investire, trattano noi come le marionette, ti fanno impazzire, ti fanno fallire, l'arri che forzi non hanno manette, perché ci son boschi a proteggere i fiaschi, banca, truria, monte dei paschi, a fare lo ski. E tu ci caschi e non c'è più terra sul fondo che raschi, il signoraggio bancario non guarda il salario ma la propria tasca, ed il ragazzo precario non paga la casa ma paga la tassa. Basta con questa politica marcia, il popolo scaccia, noi siamo in marcia, verso il potere che noi prenderemo, questa è una minaccia. Stati che sono stati dati ai trattati, ma i cittadini come li han trattati, come pedine sulla scattiera, mangiati con i risparmi, una vita intera. E adesso quali sono i risultati? Vecchi ammazzati e giovani scappati. La gente è stanca del grande gioco della banca, fight the power, motherfucker. Figli di troica, ci fago boys, euroschiavi, fanno ferite gravi, i popoli ma che bravi. Cricchi ed illuminati, elite minimali, obertosi avidi, scolpiscono le lapidi. I tank delle bad bank ci hanno intossicato, non hanno dignità, questo lo abbiamo constatato. Usurai governi complici, stampano moneta, fanno derivati avariati e svendere la meta. Ma il popolo non ci sta, guarda in Francia con i giovanchi. Ci vogliono servi, ci avranno ribelli, l'esercito dell'onestà. Si muove qualcosa si sa, nelle città, varie mità, cittadini nelle istituzioni con le informazioni per la verità. Una speranza contro la casta che devastara contro la disgrazia, contro il sistema che ci rende topi sulla ruota dentro la gabbia. Ci stupiscono per i pressi, tra la borsa calo se sono i prezzi. Quest'unione europea è un'epopea che vogliono guidare ma non hanno i mezzi. stati che sono stati dati ai trattati, ma i cittadini come li han trattati? Come pedine sulla scacchiera, mangiati con i risparmi di una vita intera. E adesso quali sono i risultati? Vecchi ammazzati e giovani scappati. La gente è stanca del grande gioco della banca. Fight the power, motherfucker. Fight the power, 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 fight the power. E io, Simone, sul beat di Killabong. Featuring Lara Grace, Elio Lannotti. Vogliamo solo un po' di giustizia. Yeah. Arrivederle Stelle. Arrestare questi manager, questi della Banca d'Italia. Zoni. Zoni. Grazie a tutti